di venerdì 13, tipo, oddio c'è una bestemmia, dio mattone, ma per me non so bestemmie, dio mattone, dio yogurt, dio banana, sono tutti di, ma di diverse categorie non è che uno ci ha messo il porco, no, no, semplicemente, dio mutanda, dio libro, dio bambingesù, cioè per me non so bestemmie, semplicemente grazie a tutti